Con il giuramento del governo Draghi si apre per l'Italia una nuova fase. A tutti i ministri mi auguri di buon lavoro e un grazie sincero a Mario Draghi per aver accettato un incarico così delicato in un momento fondamentale per noi tutti. Grazie anche a presidente Mattarella per la gestione della crisi. Nel frattempo a Milano non siamo comunque stati con le mani in mano e abbiamo proseguito nel lavoro di preparazione della nostra proposta elettorale fatta di due fondamentali elementi. Un programma rispetto al quale oggi vi darò alcuni spunti e secondo una compagine che è quella che conoscete che non risentirà per nulla del diverso perimetro che ha preso il governo Draghi, ovviamente perimetro che rispetto. Qualche anno fa, era lontanissimo 2017, mandai una lettera al Corriere della Sera ipotizzando una Milano che avrebbe trovato una nuova dimensione nel rallentare i suoi ritmi. E non pensavo di rinunciare al nostro dinamismo ma di individuare una nuova organizzazione degli spazi, dei tempi, dei servizi che ci garantisse una maggiore qualità di vita. E devo dire che la proposta non trovò gran seguito. Guardando indietro capisco, erano anni in cui ci sentivamo fortissimi. La città è al centro dell'attenzione internazionale. I giorni dell'anno non sembravano abbastanza per accogliere tutto quello che avevamo da fare. Poi, all'improvviso, è successo qualche successo. Qual è la sintesi che ora propongo a Milano per riprendere la strada dello sviluppo in un migliore equilibrio tra crescita, equità e ambiente? Ecco, sto molto riflettendo su questi temi insieme anche ai sindaci, alle sindache delle grandi città del mondo come per esempio Parigi, Barcellona, Melbourne, molte altre. E la risposta c'è sempre più chiara. È una risposta che è riferibile all'idea di una metropoli che si specchia e si ispira alla vita dei suoi quartieri. Il valore della Milano post-covid deriva dalla tenuta del suo tessuto fatto della vita dei suoi quartieri. E questo non significa diminuire la vitalità complessiva della nostra città. Anzi, una Milano che trovi ovunque le sue risposte di lavoro e di servizio a 15 minuti da casa, a piedi o in bicicletta, non è una città meno dinamica e vitale. È una città che sa usare se stessa in ogni sua zona. È una città più sana, più viva e più resistente. Penso ad alcune leve fondamentali da attivare per realizzare questo disegno. Salute. Forse non avrei citato questo tema qualche anno fa, ma a oggi è fortissima la mia convinzione che è necessario portare più vicino ai cittadini la soluzione dei loro problemi di salute. Medicina di prossimità, consultori, assistenza anche domestica dei medici di base. Sono altrettante soluzioni di una sanità che non può più arroccarsi negli ospedali, ma deve andare incontro ai problemi delle persone. E poi istruzione. Ogni quartiere deve non solo offrire le corrette e contemporanee opportunità educative e scolastiche fin dai primi anni di vita, bensì maturare tutti quegli strumenti formativi e culturali che permettono alle persone di crescere insieme al loro ambiente di vita quotidiano. Lavoro. Se vogliamo che i nostri quartieri siano reali occasioni di crescita della metropoli, dobbiamo impegnarci nella disseminazione di opportunità di lavoro in ogni zona di Milano. Dislocazioni delle imprese, nuove sedi di co-working, anche pubbliche, sviluppo del commercio e dei servizi della persona, sono altrettante condizioni per la crescita della vitalità complessiva della metropoli tramite i suoi quartieri. Trasporti. Ogni quartiere della nostra città deve essere integrato in un sistema di mobilità che rispetti l'ambiente e che rappresenti una concreta ed efficiente risposta alla necessità di spostamento di tutte le età, di tutti gli orari e di tutte le collocazioni nella società. E ambiente. La città vincerà la battaglia dell'ambiente solo se tutte le sue parti, solo se tutti i suoi quartieri saranno responsabili di ogni loro azione, di ogni loro rifiuto che producono, di ogni piccolo comportamento che potrà concorrere ad una reale transizione. Ogni quartiere dovrà fare i conti con la sua responsabilità, ma godrà dei benefici di un ambiente più sano. Lavoriamo insieme sulla costruzione e sul rafforzamento di questo modello. La città in 15 minuti non è uno slogan, ma è una grande opportunità per tutti da realizzare con precise scelte politiche e con un grande senso di partecipazione. Queste azioni devono misurarsi con un senso della sicurezza, poi, che non può e non deve essere figlio delle solite visioni ideologiche e delle solite contraposizioni partitiche. La protezione sociale è elemento che garantisce senso di compiutezza a questa nuova città che deve essere più cosciente e più accogliente in ogni strada, in ogni piazza, in ogni dove. Certamente questo si raggiunge con investimenti in innovazione, tecnologia, ma la sicurezza si deve anche vedere. E so che ogni vigile, ogni poliziotto, ogni carabiniere in più sarebbe gradito. Insieme alla proposta della città in 15 minuti ho deciso che un elemento importante della mia proposta per il prossimo mandato sarà il rafforzare significativamente la polizia urbana attraverso l'assunzione di 500 vigili. Saranno forze fresche e preparate che svolgeranno il loro compito nelle strade della nostra città. Buon fine settimana a tutti voi.